Ciao a tutti, in questo video voglio presentarti per quanto riguarda i tipi psicologici il cosiddetto artista, che sarebbe l'eniatipo 4 dell'enneagramma. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Inoltre, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti al canale e potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. E veniamo adesso ai tipi psicologici, l'artista, che sarebbe l'eniatipo numero 4, cioè il numero 4 dell'enneagramma, che fa parte della triade del gruppo degli emotivi. Quindi il 4 fa parte degli emotivi. 2, 3 e 4 fanno parte del ciclo degli emotivi. Quindi il 4 è quel tipo che ha contatto comunque con il 5, che invece è il primo degli mentali, diciamo così. Allora, l'artista, che imprinting ha avuto questo tipo 4? Allora, un imprinting di sofferenza molto forte, sofferenza molto forte dovuta al timore, diciamo, di venire abbandonato e o rifiutato da uno dei due genitori. E quindi la sua compulsione per poter essere amato sente la percezione molto forte di dover essere speciale, di dover essere un bambino speciale, diverso da tutti gli altri. Comunque nel suo profondo ha un senso di mancanza e carenza molto forte e ritiene, diciamo, che può correre il rischio di venire abbandonato o rifiutato, diciamo, dai genitori, se non dimostra di essere speciale, di non essere banale, di non essere simile a tutti gli altri. Quindi ha sviluppato nel tempo questa compulsione molto forte, molto manifesta sulla banalità, cioè di evitare la banalità. E nel frattempo questo bambino, diciamo, per proprio questa paura di essere abbandonato, ha sviluppato rabbia forte verso i genitori, che però viene sublimata, cioè dirottata, canalizzata diversamente, e, infatti, la sublimazione è uno dei meccanismi di difesa che utilizza, su invidia verso gli altri. Quindi questa rabbia si tramuti in invidia verso altri bambini, in questo caso, che ritiene più fortunati di lui. Ma dietro questa, come dire, invidia, c'è la rabbia che a suo tempo ha provato verso i genitori, questa forte tendenza alla rabbia. E l'invidia è proprio anche data, quindi, anche dal timore di essere lasciato per una persona migliore di lui. Quindi abbiamo già trovato che il meccanismo della compulsione, quella spinta compulsiva, è quello di evitare la banalità. Per cui il tipo 4 viene chiamato artista perché, proprio per evitare la banalità, tende a essere una persona eccentrica, una persona creativa, un'artista, tra virgolette. Il peccato è l'invidia che nasce dalla rabbia accumulata verso i genitori e il meccanismo di difesa è, diciamo, sono due. Sono l'introiezione e la sublimazione. L'introiezione è la rabbia verso i genitori o la rabbia che percepisco negli altri. L'introiezione è un meccanismo di empatia molto forte, no? Io mi faccio carico di quello che vedo negli altri e quindi se noto la mia rabbia, la proietto sui genitori, i meccanismi sono due, proiezione e introiezione, la proietto e me la riprendo sotto forma di, diciamo, invidia, oppure rabbia verso se stessi che in tal caso, talvolta, può portare a stati di tristezza profonda, depressivi. Oppure c'è la sublimazione, cioè l'utilizzo di questa energia in altre situazioni, in altre mete più accettabili. La sublimazione è i comportamenti, le pulsioni che vedo non accettabili dentro di me le trasformi in qualcos'altro che l'io, tra virgolette, la coscienza, ritiene accettabile. E quindi questo può essere un talento, questo è un po' il meccanismo che utilizzano molti artisti. Molti artisti, utilizzando proprio questo meccanismo di difesa della sublimazione, fanno opere d'arti molto belle. Tutti i grandi compositori musicali avevano una compressione energetica molto forte, delle sofferenze, dei vissuti di sofferenza, di dolore molto forte, che però attraverso questo meccanismo di difesa della sublimazione lo trasformano in qualcosa di accettabile. Quindi in questo caso può essere un'opera d'arte, può essere creatività, può essere anche l'invidia, diciamo. Anche l'invidia verso altri è un altro meccanismo. E un'altra cosa interessante che hanno appunto, che hanno, è l'aspirazione. Ecco, a che cosa aspira l'artista? Aspira a una vita armonica, perché l'armonia è un po' quello che gli è mancato fondamentalmente nella sua infanzia. E poi ci sono le virtù che ovviamente gli artisti hanno, cioè la creatività artistica, l'originalità, il senso del bello, il senso dell'arte. Comunque, possiamo dire che il tipo 4, quindi questa tipologia, ha un forte vissuto di sofferenze e dolore, che caratterizzano, diciamo, caratterizzati proprio da questa paura di essere abbandonato e questa paura di essere, e o di essere rifiutato, che costituiscono il suo imprinting. Questa sofferenza, però è anche il suo patrimonio energetico, e il vero, per così dire, successo poi dell'artista è quello di imparare a canalizzare questo forte, questo forte vissuto di sofferenza potente dentro di lui a canalizzarlo in, a canalizzarlo sui suoi obiettivi fondamentalmente. Quindi, gli obiettivi che possono essere di diversa natura. hanno molta empatia gli artisti, per cui il tipo 4 rischia talvolta di farsi carico dei vissuti di sofferenza dell'altra persona. Quindi, talvolta, il 4 sono quelle persone che vengono chiamate anche persone altamente sensibili, cioè hanno una, i pass, persone altamente sensibili, cioè hanno una iper-empatia, e questa iper-empatia genera spesso delle sofferenze anche, anche molto forti. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti al canale potrai ricevere delle risposte precise, mirate alle tue domande. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie.